Le pozzanghere non sono fatte per essere evitate, lo sport non è fatto per essere guardato, le case non sono fatte per restare ordinate, i viaggi non sono fatti per comprare souvenir, le moto non sono fatte per essere lucidate, le notti non sono fatte solo per dormire, l'amore non è fatto per essere calcolato. Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita, perché la vita è fatta per essere vissuta. Cattolica Assicurazioni, pronti alla vita.